E' scontro tra Comune e Regione. Con 38 voti favorevoli su 58, la mozione presentata dal Capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi per bloccare le nuove 450 licenze taxi proposte dal Comune in risposta ai divieti di area B, ieri ha ricevuto il sì dalla Giunta regionale. La mozione, votata anche dalla Lega e dal resto del centro-destra, mira a subordinare il rilascio delle nuove licenze di taxi a favore di un'analisi sui reali fabbisogni del territorio. Il rilascio di nuove licenze taxi è una prerogativa di Regione Lombardia. Con la mozione approvata oggi abbiamo bloccato un provvedimento inutile e dannoso, lo afferma in una nota il Capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi. Secondo la mozione, la difficoltà dei tassisti di garantire un servizio tempestivo non è data dallo scarso numero delle macchine bianche, ma bensì dalla presenza dei numerosi cantieri in città. Immettere 450 nuove licenze oggi potrebbe produrre effetti devastanti tra qualche anno, quando la maggior parte dei cantieri saranno smantellati, commenta Comazzi. In risposta all'assessore alla mobilità Marco Granelli accusa la Regione di opporsi alla decisione solo per questioni politiche. Noi vogliamo che a Milano il servizio taxi sia più numeroso perché i dati ci dicono che la città sta crescendo, ma intanto la Regione mette i bastoni fra le ruote, per questo vogliamo l'autonomia. La questione è così rinviata a tempi ancora imprevedibili, solo infatti dopo che la Regione avrà condotto degli studi autonomi sulla base dei quali valutare il piano promosso da Palazzo Marino, la Giunta potrà esprimersi a favore o meno delle nuove 450 licenze. Grazie.